Allo SMAO di Milano MetaWorld ha presentato i propri ologrammi con intelligenza artificiale e metaverso. L'obiettivo è quello di creare un mondo parallelo con oggetti olografici collegati con il proprio sistema NFT. Si potrà quindi entrare nel metaverso creato per l'occasione per vivere una esperienza immersiva e coinvolgente, il tutto valorizzato da contenuti olografici che mostrano chiaramente come l'arte e la tecnologia possano incontrarsi all'interno del metaverso. Cesare Catania, direttore artistico di MetaWorld. Il primo metaverso che abbiamo realizzato è di una galleria d'arte, questo proprio per mettere in relazione il fatto che l'arte e la tecnologia si possono tranquillamente sposare, anzi si sposano sicuramente all'interno del metaverso. Però così come l'arte anche diversi altri settori possono essere coinvolti dalla realizzazione di metaversi. Consegnato anche un premio per l'innovazione e la tecnologia alla Fondazione Cannavaro, che ha proposto durante le proprie manifestazioni ologrammi e realtà virtuale. Dall'agri-tech al food-tech, dal digital manufacturing alla robotica, dall'intelligenza artificiale alla mobilità, dall'economia circolare alla salute ed ancora dal recycling al metaverso fino alle sezioni dedicate a Maker Art e Maker Music. Apre i battenti la decima edizione di Maker Faire a Roma. Al gazometro 300 spazi espositivi con idee, prototipi e progetti. Dieci candeline per tagliare un traguardo importante, come spiega Lorenzo Tagliavanti, presidente della Camera di Commercio di Roma, promotore e organizzatore dell'evento. Sono dieci anni che hanno cambiato la nostra vita, hanno cambiato l'economia, hanno cambiato il modo di essere, non soltanto delle persone ma anche dell'economia. Maker Faire ha accompagnato questi cambiamenti. Realtà aumentata per la formazione, droni per la consegna di merci, mobilità intelligente con veicoli connessi. È il mondo del futuro, immaginato dal progetto del Politecnico di Milano, fra i vincitori del bando di regione Lombardia Call Hub Ricerca e Innovazione, alla base dell'idea di Smart City proposta, luoghi in cui l'interazione non ha bisogno più di uno smartphone come mezzo, ma diventa automatica e immediata con gli spazi che si adeguano agli utenti. Come nel caso della mobilità con veicoli e strade intelligenti che interagiscono e cooperano grazie al 5G, aumentando in primo luogo la sicurezza.